Eccomi, sono ancora qui, non temete, per fortuna, nulla di grave, non mi avete visto in questo periodo, ma credetemi che ho preso tutte le influenze che c'erano da qui al nord Italia. L'ultima a Milano, dove sono stato per l'evento di presentazione della Fujifilm XS20, ed è proprio di quella che vi parlo oggi, perché avrei voluto farlo subito, ma sono tornato senza voce, mal di gola e via riscorrendo, quindi ne parliamo oggi, ma è più che altro un'anteprima, in quanto poi vedrò magari più avanti di averla proprio con me per testarla più da vicino, anche perché è una fotocamera davvero interessante. Diciamo che già la XS10 era stato un modello davvero molto interessante, perché ha portato un po' di rottura, se vogliamo, nell'ecosistema di Fujifilm, quindi una fotocamera che sì, aveva il sensore X-Trans, quindi con la qualità, diciamo, tipica delle APS-C della casa, ma con un corpo un po' più da mirrorless tradizionale, se vogliamo, non quell'aspetto simile analogico, quindi con tutte le ghiere, con le serigrafie, dei tempi, degli ISO e via discorrendo. Cosa che già con l'uscita della XS10 ha un po' diviso, perché gli amanti di Fujifilm, che lo erano proprio per questo approccio, magari non solo per quello, per carità, ma proprio per questo approccio un po' analogico, ovviamente non si sono ritrovati nella XS10, ma ha consentito questa fotocamera anche di avvicinarsi ad un pubblico più ampio, ed è stato così, perché moltissimi acquirenti, infatti, l'hanno apprezzata, al di là di quella che era la qualità fotografica, anche per un corpo davvero interessante. Cosa che viene riproposta nella XS20, che si mantiene praticamente la stessa, insomma è difficile riconoscere le piccole differenze che ci sono all'esterno delle due camere. Rimane una fotocamera ben fatta, solida, pur essendo piccola, ma non tropicalizzata, caratteristica che ovviamente la va a distinguere dalle fotocamere più elevate in gamma in casa Fujifilm. Però, a differenza, per esempio, delle XT, anche della XT5, ha un'impugnatura bella pronunciata. È più simile, se vogliamo, ad una XH2 miniaturizzata, diciamo così, che non ad una XT4 o T5 più piccola, cosa che effettivamente non serve perché c'è già stata la XT30. La XS è una linea a parte e che effettivamente ha questa caratteristica davvero interessante di un corpo che rimane piccolo e leggero, ma robusto e comodo in mano. Ecco, questa è una caratteristica che si nota davvero subito. Magari il mignolo non poggia se si hanno mani grandi sull'impugnatura, ma comunque rimane ben salda. Tra l'altro qui cresce anche un po' da quel punto di vista, perché all'interno è stata inserita la nuova batteria di Fujifilm, o per meglio dire più che nuova, la grande batteria di Fujifilm, quella che troviamo in XH2, H2S, in XT4 e XT5, insomma quella che ha una maggiore autonomia. E questo era uno dei pochi limiti della XS10, mentre qui si arriva ad autonomie di 800 scatti, per dire secondo lo standard CIPA, e con il video vi dico subito che ho provato insieme all'amico e collega Fabio Porta, siamo arrivati ad oltre un'ora e mezza di registrazione con una singola carica, che comunque è ovviamente un numero importante. Ma torniamo a noi. Cosa cambia diciamo tra XS10 e XS20? A livello di estetica vi dicevo veramente pochissimo, ma sul fronte display e mirino qualche miglioramento c'è. Purtroppo il mirino non cresce di dimensione, cosa che avrei gradito onestamente. Rimane un po' piccolino, però a livello di qualità abbiamo un OLED da 2,36 milioni di punti che si difende assolutamente bene. Lo schermo rimane da 3 pollici, ma sale da 1,04 a 1,84 milioni di punti, quindi aumenta la risoluzione, si vede complessivamente meglio. Diciamo che poi non c'è nessuna differenza nel corpo. Una piccola novità è che nella ghiera dei modi adesso c'è una nuova posizione, che è quella vlog, che attiva una modalità dove si ha la possibilità di avere a schermo dei tastoni belli grandi per il touchscreen per attivare cose come la F o modificare le impostazioni della stabilizzazione, oppure attivare la funzione di presentazione prodotto, che funziona un po' come nelle Sony, insomma, quindi priorità di base sul volto, ma se mostriamo qualcosa che si avvicina alla camera, allora la F passa automaticamente a questo prodotto che stiamo mostrando. A livello di sensore è lo stesso di quello della XS10, quindi 26 megapixel, un sensore ultra rodato in casa Fujifilm, non per questo, diciamo, negativo, insomma, perché è comunque un sensore di ottima qualità, ma cambia il processore. Abbiamo l'X processor 5, che abbiamo appunto nella XT5, che porta tutta una serie di miglioramenti. Per esempio nella F è vero che i punti di messa a fuoco non cambiano, perché questi sono situati sul sensore, il sensore è lo stesso di quello della XS10, e sono quelli, 425, se ricordo bene, ma cambia il motore di messa a fuoco, quindi abbiamo questa nuova caratteristica del deep learning che offre la messa a fuoco migliorata in termini di precisione, poi soprattutto anche ampliata in termini di oggetti che si possono riconoscere, quindi abbiamo sia le persone che gli animali, che le moto, le bici, le auto, i treni, gli uccelli, gli insetti e i droni, gli aerei, insomma, veramente la possibilità di riconoscere praticamente tutto, insomma, in automatico nella messa a fuoco continua. E poi, tra le altre novità che vengono fuori grazie al processore, c'è una molto molto importante che riguarda il video. Il video è sicuramente un elemento centrale della XS20, intanto vi dico subito che registra fino al 6,2K in open gate, quindi sfruttando l'intera area del sensore, fino ai 24, 25, 30 fotogrammi al secondo. Ora, considerate che, come sempre per Fujifilm, abbiamo diverse combinazioni per i codec, bitrate, si arriva fino a 360 megabit per secondo di bitrate, è al 4,2,2 10 bit, quindi comunque qualità molto elevate, la possibilità di salvare in log e via lì scorrendo. Però l'open gate è tanta cosa, l'open gate ti dà la possibilità intanto di una risoluzione maggiore che può servire per riquadrare in post-produzione, quindi per tagliare meglio l'inquadratura, ma poi anche per, per esempio, i video in verticale. Molto spesso, se ragioni bene, con l'open gate, quindi in tre mezzi parliamo, riesci a ottenere anche un video verticale da un video orizzontale senza sacrificare molto l'inquadratura anche in quello orizzontale, quindi un solo video per fare entrambe le cose ed è ovviamente una gran cosa. Poi c'è il 4K, 4K, quindi non soltanto l'Ultra HD ma anche il DCI in 17 noni, qui arriviamo fino al 50-60 fotogrammi al secondo senza crop, altro vantaggio, il Full HD arriva fino a 200-240 fotogrammi al secondo senza crop, tutto senza limiti di tempo. È difficile trovare una fotocamera in questa fascia che abbia queste caratteristiche. E allora uno diceva, beh, senza limiti di tempo, tranne quello del surriscaldamento. Sì, in parte. Io ho provato a registrare mezz'ora continua in 6K e mi ha mostrato il segnale del surriscaldamento. A quel punto però, dalle impostazioni, ho attivato la possibilità, diciamo, la modalità ad alte temperature per superare questo limite, o per meglio dire, per registrare anche dopo aver visto questo warning, ed ha registrato per un'altra ora di seguito. E voi direte, vabbè, si è scaricata prima la batteria ed è effettivamente quello che è successo, perché avrebbe sicuramente continuato a registrare ancora. Tra le altre cose, mettendo una batteria nuova carica, è sparito anche il messaggio di avviso e quindi avrei potuto proprio ripartire da capo. Tanta roba da questo punto di vista. Diciamo che faceva già caldo, secondo me, quel giorno a Milano c'erano forse 25 gradi, grossomodo, quindi non era estate piena, ma comunque sicuramente era una giornata calda. E però all'interno della XS20 si notano due attacchi, perché questa fotocamera è anche compatibile con l'accessorio F001, credo si chiami, che è nato insieme ad XH2 e XH2S, che è praticamente una ventolina che prende l'alimentazione direttamente dalla camera senza cavi aggiuntivi, che consente quindi di mantenere il sensore fresco e andare praticamente all'infinito, sempre se fermo restando il limite della batteria e potenzialmente delle schede, con ovviamente anche il vantaggio per il sensore stesso, cioè anche se la camera ha dimostrato, almeno da quello che è stato il mio test, di non avere problemi di durata, in effetti se si usa sempre per il video e sempre per lunghe registrazioni, avere cura del sensore non è una cattiva idea, quindi eventualmente si dovesse utilizzare in tal senso, io magari la ventolina la considererei comunque. Ad ogni modo veramente tante caratteristiche ottime per il video, mentre lato fotografico insomma avrete capito che sono di meno le novità importanti. Tra l'altro c'è un'altra aggiunta interessante per il video che è quella dell'uscita cuffie, che Fujifilm ha interessantemente aggiunto in modo furbo sul lato destro della fotocamera, una zona che solitamente insomma non ospita nulla, è completamente vuota, e qui ci hanno messo l'uscita per le cuffie, che si aggiunge all'ingresso che sta sul lato sinistro, alla porta USB-C che fa anche ricarica, streaming eccetera, e la porta micro HDMI, sì lo so non è bello la micro HDMI, ma insomma è un peccato veniale se vogliamo rispetto ad altri modelli anche di fascia più elevata, full frame eccetera che hanno questa porta, qui perlomeno, visto anche la dimensione del corpo, la giustifico un po' di più, così come giustifico un po' il fatto che ci sia lo slot di memoria, che adesso è una UHS-II, non uno, nella parte bassa, che non è il massimo insomma, preferisco quello laterale, però considerate le dimensioni del corpo e considerate l'aggiunta della nuova batteria, insomma di lato come la mettevi, quindi veramente tante tante caratteristiche migliorative, ma ripeto specificatamente per il video. Ecco perché la XS10 per chi fa strettamente fotografia secondo me rimane comunque molto molto valida anche rispetto a queste novità, perché qui al di fuori della batteria, che può essere interessante per tutti, le vere novità sono quasi esclusivamente per il video, direi al 70%, ma forse anche di più. Quindi diciamo che con la XS20 forse Fujifilm ha anche un pelino cambiato target, non solo per il prezzo che sale a 1429 euro, ma anche proprio per il tipo di utente, nel senso che sì, va ancora bene per il neofita questa XS20, ma è una fotocamera, o per meglio dire una mirrorless che ad oggi si presta molto bene anche per chi ad esempio deve fare video professionalmente per gestire un canale YouTube, cioè una fotocamera che ti offre veramente tanta versatilità per i video, per i social in generale e via discorrendo, quindi un modello davvero furbo. Poi insieme hanno anche presentato un nuovo obiettivo, un 8mm f3,5 che ho avuto modo di provare, in realtà purtroppo ho provato solo quello quel giorno, quindi non ho potuto fare il lato fotografico perché è un obiettivo un po' complesso da utilizzare, è un 12mm equivalente, quindi devi sapere come armeggiarlo, non è adatto a tutte le situazioni, e lì ho visto anche che la stabilizzazione sul sensore, stabilizzazione a 5 assi, comunque continua ad avere un po' l'effetto bolla agli angoli in particolare con questi super grandangoli, ecco però già sui 35mm comincia ad essere ampiamente gestibile con buoni risultati, soprattutto con il fatto che si può arrivare a 50-60 fotogrammi senza crop e quindi si può eventualmente rallentare oltre che stabilizzare. Tra le altre cose questa è la prima Fujifilm ad avere anche delle impostazioni un po' più avanzate sul reparto della stabilizzazione, quindi diciamo delle personalizzazioni per ottenere un miglior risultato. con un rating che ha ottenuto di 7 stop di compensazione secondo lo standard Cipa, che l'ha provato con un 35mm, l'F1.4, quindi quello che di suo non ha la stabilizzazione ottica. Insomma, una fotocamera secondo me molto molto interessante, spero di poterla provare, arriverà a luglio, vi dico anche come al solito che fate riferimento a Riflessi Shop per un eventuale acquisto barra prenotazione perché potete utilizzare il codice saggio sconto per ottenere un 5% di risparmio sull'acquisto, su tutto il sito in realtà non solo su questa fotocamera quando sarà disponibile. Comunque vi lascio il link in descrizione, ovviamente sapete che Riflessi Shop è il mio sito di riferimento ma anche negozio fisico di riferimento ormai per quanto riguarda l'attrezzatura fotografica è quello che consiglio più spesso ottenendo anche da voi dei feedback molto positivi. Beh, con questo è tutto, spero di non avervi annoiato perché non avevo la fotocamera qui con me, qualche ripresina di B-roll l'avevo fatta ma purtroppo poca perché anche lì ero già un po' in tilt e quindi ci vediamo poi al prossimo video, c'è la WWDC ormai alle porte quindi sicuramente parleremo di quello. Alla prossima, ciao! Ciao!